AirTag, Airpods 3, HomePod con schermo e iPhone 13. Questi sono i prodotti di cui parleremo in questo video e allora ragazzi mandiamo la sigla e partiamo subito perché ci sono tanti aggiornamenti sulle novità del mondo Apple. Benvenuti ragazzi, allora prima di cominciare ovviamente ricordatevi di lasciare like a questo video e di iscrivervi al canale e importantissimo anche seguitemi sul mio profilo Instagram dove pubblico una serie di storie e foto che sono sicuro che possono interessarvi anche per seguirmi durante tutta la settimana al di là dei video di YouTube. Ma parliamo di novità del mondo Apple e quindi iniziamo da AirTag. Sono trappelate infatti le prime indicazioni sul prezzo e sulla disponibilità degli AirTag che ricordiamo potrebbero essere annunciati ad aprile con un evento stampa oppure anche no, semplicemente con un comunicato stampa o con la messa in commercio tramite l'Apple Store online e gli Apple Store fisici in vendita di questi nuovi prodotti. Intanto per la questione disponibilità si parla di un lancio a fine aprile ma non sappiamo se contestualmente il lancio arriverà poi appunto ad aprile quindi nell'ultima parte del prossimo mese oppure se si andrà all'inizio di maggio. Poco cambia comunque il periodo più o meno coinciderà con questo qui ma la questione interessante è quella del prezzo perché sul fattore prezzo ci siamo tutti un po' sbizzarriti a indovinare quale sarebbe stata poi la cifra a cui Apple avrebbe venduto un singolo AirTag. Ebbene sembra che negli Stati Uniti questa cifra sarà di 39 dollari, vale a dire 10 dollari in più rispetto al prodotto di pari categoria realizzato da Samsung. E con ogni probabilità questi 39 dollari diventeranno 39 euro in Italia speriamo perché nonostante la conversione euro dollaro che non avviene mai diciamo al netto del rapporto tra le due valute Apple poi ci infila dentro una serie di tasse imposte che abbiamo noi in Italia. Quindi io spero vivamente che resti 39 e che non diventi magari 49. Un prezzo sicuramente importante che sia 39 o 49 non fa la differenza anche solo 39 euro per un singolo tracker GPS. Sono tantini se considerate che i vecchi tile venivano venduti a 60 euro ma ne trovavate 4 dentro. Quindi prezzo importante vedremo se sarà giustificato magari dalle caratteristiche che avrà questo prodotto su cui per ora però non abbiamo grosse informazioni se non che ci sarà questa migliore integrazione con l'app dove che sarà quella responsabile del tracciamento dei vari oggetti su cui attaccheremo un AirTag. Ma si parla anche di dimensioni per farvi un'idea di quanto saranno poi ingombranti questi AirTag potete appunto prendere un righello e misurare 32 mm per 32 mm per 6 mm di spessore. Ed effettivamente la cosa che forse un po' mi stupisce è lo spessore 6 mm non è proprio sottilissimo siamo ai livelli del tile forse qualcosina in meno ma da Apple mi sarei aspettato probabilmente un tag GPS un po' più sottile un po' più piccolo un po' più che non devi sapere neanche dov'è invece 6 mm di spessore vi posso dire da mettere nel portafoglio ad esempio si sentono come e insomma può essere scomodo per alcuni soprattutto per chi ha portafogli particolarmente piccoli ma queste sono considerazioni che faremo chiaramente quando i prodotti verranno già lanciati e li potremo testare. Perché ovviamente lo faremo non fatevi venire dubbi chissà ci potrebbe stare un bel drop test un crash test di un AirTag ma si dai 39 euro cosa volete che siano. Prima di passare alle Airpods 3 di cui c'è solo un piccolo aggiornamento voglio parlarvi anche di questo rumor molto interessante che riguarda l'Apple Watch infatti pare che Apple sia al lavoro su una versione rugged dell'Apple Watch cos'è una versione rugged? Beh avete presente uno smartphone ecco questo è uno smartphone e poi ci sono questi qui che sono gli smartphone rugged quindi avete capito qual è più o meno l'antifona lo smartphone rugged è uno smartphone normale però rinforzato in grado di assicurare una migliore resistenza all'acqua alle cadute pensato per l'uso più estremo in sostanza. Ebbene Apple avrebbe in programma forse una versione dell'Apple Watch rugged quindi pensato magari per chi fa lavori pesanti per chi fa sport veramente estremi o per chi semplicemente è parecchio distratto e quindi vuole un prodotto particolarmente resistente prima che potente bello e magari anche con funzionalità all'avanguardia. Internamente questo prodotto che dovrebbe a tutti gli effetti essere una sorta di Apple Watch SE quindi un modello appunto con meno funzionalità e meno pompato di un Apple Watch serie 7 per intenderci dovrebbe essere chiamato Apple Watch Explorer Edition. E secondo me comunque è veramente un bel progetto perché c'è tanta gente che utilizza l'Apple Watch e che magari lo riempie di graffi, rompe lo schermo. Un Apple Watch più resistente potrebbe dare una mano a questo tipo di clientela e avere anche il suo fascino da orologio veramente explorer da utilizzare durante un'avventura, durante un'esplorazione. E secondo Mark Gurman, come al solito fonte autorevole, questo Apple Watch dovrebbe avere un involucro esterno gommato in modo tale appunto da attutire gli impatti e da garantire anche forse una migliore resistenza all'acqua rispetto a ciò che permette di fare oggi l'alluminio o l'acciaio. Parliamo al volo di AirPods 3 che le stiamo aspettando ma ora pare che non saranno più lanciate nemmeno ad aprile ma arriveranno solo nel terzo trimestre del 2021 secondo DigiTimes, anch'essa fonte abbastanza autorevole per quanto riguarda i report in ambito Apple. Ebbene secondo DigiTimes infatti ci sarà ancora da attendere un pochino perché il lancio delle AirPods 3 sarebbe previsto tra il mese di luglio e quello di settembre. In questo caso però anche DigiTimes concorda sul design generale che dovrebbe essere quello che abbiamo già visto e rivisto quindi nessuna sorpresa sul fronte estetico. Mentre una sorpresa la potremmo individuare per quanto riguarda la famiglia HomePod, famiglia che in Italia lo sapete non è venduta ufficialmente nell'HomePod standard che è stato praticamente bloccato in termini di commercializzazione né il nuovo HomePod mini che è quello su cui Apple ha detto di voler puntare. Ma probabilmente ci sarà anche questa sorta di HomePod video, un HomePod dotato di schermo quindi un qualcosa di molto simile all'EcoShow di Amazon che potrebbe offrire quindi una interessante opzione cioè quella di metterlo lì magari sul comodino e oltre a darci i consigli, le risposte di Siri anche a schermo potrebbe magari essere usato come monitor AirPlay o direttamente avere un software in grado di utilizzare Apple TV+. Potrebbe essere un'idea carina secondo me soprattutto per chi come sottoscritto le serie TV le guarda a letto. Tuttavia questa è solo una mia idea, il report originale con tanto di questo bellissimo concept parla soltanto di possibilità di usare iMessage, FaceTime e anche un framework per la cattura delle immagini quindi fondamentalmente per realizzare degli screenshot del dispositivo. Secondo me questo potrebbe essere un buon prodotto che aggiungerebbe qualche funzione in più alla famiglia HomePod che darebbe magari modo all'utenza di spendere qualche soldino in più rispetto all'HomePod mini per un prodotto fatto in questo modo che rispetto al vecchio HomePod non punterà più solo sull'audio ma anche su una minima componente video. Ma arriviamo ad iPhone 13, la prima notizia è quella sicuramente più importante che avrete probabilmente già appreso perché ha fatto il giro del web rapidamente ed è relativa al notch. Sono trapelate le immagini dei pannelli in vetro dell'iPhone 13 nelle tre versioni quindi 5.4 se ci sarà un iPhone 13 mini, 6.1 per l'iPhone 13 e il 13 Pro e poi 6.7 invece per il 13 Pro Max. Come potete notare se guardate il notch c'è qualcosa di strano. Non è solo più piccolo ma la capsula auricolare è stata spostata nella cornice e questo forse ha permesso di mantenere tutti i sensori utili per il Face ID perché ricordiamoci che Apple non ha soltanto la fotocamera. Per avere infatti lo sblocco sicuro e soprattutto sempre funzionante che Apple garantisce con il Face ID c'è bisogno di un illuminatore laser, di un sensore di profondità e di una fotocamera. Sono ben tre sensori che fino ad oggi sono stati posizionati in questo modo. Se la fotocamera dovrà restare lì insieme ai sensori la capsula auricolare era effettivamente ciò che si poteva portare nella cornice andando così a ridurre le dimensioni del notch. Magari finalmente tornerà la percentuale di batteria e sì non cambierà molto ma sarà pur sempre un passo verso la rimozione del notch che speriamo possa avvenire comunque nelle prossime generazioni di iPhone. Ma ragazzi anche qui vorrei prendermi un piccolo momento non aspettatevi che Apple dall'oggi al domani tolga il notch perché il notch è ciò che porta ad avere il Face ID e il Face ID per come ragiona Apple è più importante di avere un device senza notch perché è ciò che vi garantisce sicurezza e fruibilità del dispositivo in ogni situazione. Vi sfido a prendere uno di quegli smartphone Android senza notch magari solo con la fotocamerina e a sbloccare con quel sistema il telefono di notte. Sapete cosa succede? Che impazzite dopo la prima notte perché non funzionerà mai e dovrete sempre mettere il codice oppure al massimo l'impronta se questo dispositivo ce l'avrà. Siccome per ora iPhone non ha più un sensore di impronte digitali a meno che non venga reintrodotto per me è molto difficile che Apple scelga di fare un passo indietro così compromettente. Ma su iPhone 13 abbiamo anche altri aggiornamenti molto importanti. Sono infatti emersi veramente tantissimi dettagli a partire dalla scocca che sarà nera opaca sul modello nero quantomeno non sappiamo se anche sugli altri device e sarà presente inoltre un rivestimento in acciaio inossidabile che ridurrà macchie e impronte. La fotocamera posteriore sarà leggermente modificata e ci sarà una nuova funzione per il beamforming che andrà a ridurre il rumore ambientale durante le chiamate. Ma non è finita qui perché questo leaker ci aggiunge anche che l'iPhone 13 sarà probabilmente disponibile anche in una versione arancione però simile al bronzo quindi una versione migliorata del gold un po' più accesa forse. Sullo schermo vi sarà un nuovo rivestimento antimpronte perché qui diciamo che con l'Apple funziona bene ma spesso si formano dei graffi superficiali che sono quelli che si formano sul rivestimento che però poi alla fine sembra che lo schermo sia graffiato ed è veramente molto fastidioso. Tra l'altro questi graffi appaiono relativamente presto sul dispositivo quindi rivedere questo aspetto secondo me sarà interessante. E infine ci dovrebbe essere anche una funzione software per quanto riguarda i video e la fotocamera perché su iPhone 13 potrebbe arrivare si dice questa funzionalità in grado di capire in automatico quando andiamo a modificare l'orientamento del dispositivo e se stiamo riprendendo un soggetto ad una certa distanza e magari perdiamo la messa a fuoco il telefono in automatico tramite intelligenza artificiale riconosce che il soggetto è in questo caso magari un cane che stiamo riprendendo e farà sì che ai nostri movimenti involontari corrisponda una messa a fuoco e un tracciamento del soggetto più preciso e anche una stabilizzazione migliorata compensata dal software e dall'intelligenza artificiale. Insomma iPhone 13 inizia a prendere veramente ormai forma abbiamo qualche dettaglio anche su come funzionerà non solo su come sarà a livello estetico per la presentazione ovviamente lo sapete c'è da aspettare ma già con le prossime versioni di iOS secondo me qualche spoiler in più lo potremo avere fino ad arrivare ad iOS 15 che ci darà grossi indizi su come sarà iPhone 13. Ragazzi se vi è piaciuto questo video ricordatevi di lasciare un like non è troppo tardi per farlo e anche di iscrivervi al canale di attivare la campanellina delle notifiche e di seguire il mio profilo Instagram per anticipazioni sul mondo Apple 24 ore su 24. Ma per ora è tutto noi ci risentiamo sempre qui la settimana prossima sul canale YouTube di iPhoneItalia.com un saluto da Andrea Cervone a presto. Grazie.